Dato l'ancia ha la punta ondulata e suona male, ti spiego un trucco per poterla recuperare. Ciao, io sono Maurizio e oggi ti spiego come recuperare un'ancia dalla punta ondulata. La prima cosa che ti chiedo è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra con scritto iscriviti. È molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Situazione tipica, non suono il sax da più di una settimana o dieci giorni. Decido di rimettermi a suonare. Ho lasciato l'ancia sul bocchino e si è un pochino seccata. Inizio a suonare e vedo che l'ancia suona malissimo. È diventata attufata e la sua punta non è lineare e liscia ma è ondulata. Che cosa posso fare? Cioè è arrivato il momento di buttare quest'ancia oppure la posso recuperare? La risposta è sì, si può recuperare. Basta che segui questo consiglio. A questo punto ecco che cosa si può fare. Si sfida il bocchino dal sassofono. Eccolo qua. Così com'è. Si toglie la fascetta. Leviamo l'ancia dal bocchino. Mettiamo l'ancia un pochino in bocca a umidificarsi. A questo punto l'ancia è ancora ondulata, però è omogeneamente umidificata. La andiamo a piazzare qui, in questo punto qua. In questo modo. E poi facciamo pressione con il pollice in questo modo. Lo lasciamo per un po' di tempo così. Se noi togliamo il pollice, l'ancia si legge. A questo punto la possiamo prendere, staccare, rimettere un pochino in bocca a umidificare. E ora la possiamo rimontare. Ora è perfettamente piatta e suona benissimo. Se ti piace questo mio approccio naturale, spontaneo all'insegnamento del sax e di tutti i suoi trucchi, allora clicca nel link in descrizione, ho scritto studia con me, clicca qui. Si avrà un form, metterai il tuo nome, la tua email, un breve messaggio. E io ti ricontatterò, potremo fissare un appuntamento dal vivo, ma se siamo lontani anche su Skype. Oppure chiamami o whatsappami al 331-2630-188. Ti metto in descrizione un altro video dove parlo delle ance che potrai trovare sicuramente interessante. Ti ricordo i miei social, maurizioleonisax, facebook, maurizioleonisax col trattino basso, instagram, la mia email, maurizioleonisax.gmail.com, il mio sito internet www.maurizioleonisax.com. E allora un caro saluto al prossimo video, arrivederci, ciao!